Questa cabina telefonica sembra importante, non ti pare? Topolino, è la vecchia rimessa! Lo so che non sarei troppo felice se tu lasciassi me a quei vicini, Orks. Alla prossima! Ehi là, capo, da questa parte Ehi, guarda, c'è Ian Sta passando attraverso quel muro Deve portare al vicolo di macchia nera Ma come facciamo a passare? Oh no! Un altro duplicatore di Beetleworks Proviamo per passare quel muro Un momento Il Beetleworks può aiutarci Basterà solo riprogrammarlo Oppure potremmo cercare di abbattere il muro Cerca in giro se trovi qualcosa Arriba! Oh no! Chi si occupa di queste cabine telefoniche? Oh no! Oh no! Oh no! Non preoccuparti Potremmo andarcene Ma quei Beetleworks Continueranno a creare scompiglio Non dovremmo fare qualcosa? Vogliamo esplorare il vicolo di macchia nera? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi entrare nel proiettore? Se quello schizzo ci vede, ne suonerà una e... Non ne verrà nulla di buono. Vedi di occuparti di lui prima che decida di pubblicizzare il tuo arrivo. Per un pelo! Ian non ha detto nulla sul dipingere i macchiaioli e li stiamo rendendo amichevoli. Continuiamo così. Dovremmo stare più attenti. Ian potrebbe arrabbiarsi se continuiamo a fare il ciasso. Uno di loro ha raggiunto la campana! Stiamo allerta! Bravissimo Topolino! Telecomando! Ben fatto Topolino! Oggeggio fantastico! Colpisci il cancello e la chiave girerà nella giusta direzione. Poi trascina la chiave al cancello e voilà! Terribile! Il penso io! Questo è mio!